L'ospite di stasera è un artista a tutto tondo Eccola qui con noi Sabrina Impacciatore Noi siamo persone appassionate di cinema Drogati di cinema Crediamo nel cinema Crediamo proprio nel veicolo cinema Crediamo nella possibilità di comunicare attraverso il cinema E quindi noi sogniamo che ci siano più modi possibili di raccontarlo Come quando c'era Sergio Leone Vi ricordate? Ecco questo western L'ho girato con questo regista Giovanni Laparola Lo abbiamo girato in un giorno In Inghilterra E' stato distribuito nei cinema E' stato visto da un milione di inglesi E poi è stato preso come trailer ufficiale Del Rain Dance Film Festival del 2013 Sabrina Impacciatore Con noi all'ottava edizione dell'Italia Movie Award Un grande onore avere un'attrice di talento Anche molto intelligente L'emozione di ricevere un premio qui In questo pubblico meraviglioso Che ti ha accolto con tanto calore Guarda, veramente emozionante Anche il tragitto per arrivare fino qui Mi ha trovato molto agitata Proprio anche in macchina stavo così Un po' a tremola Tu sei eclettica Hai tantissime possibilità Insomma di stupirci nella tua arte Teatro, cinema, televisione Il tuo curriculum è vastissimo Oddio Un attore ha bisogno di un mezzo per esprimersi Qualunque esso sia Adesso ci torno con la serie Immaturi Ed è un modo diverso in realtà In questo caso di fare cinema Perché stiamo facendo cinema per il piccolo schermo Quindi vediamo che succede Un esperimento A presto A presto Mettoro Grazie a tutti.